Il Frecciarossa tutto l'anno nel Cilento è un ritornello che torna d'abitudine da un anno a questa parte dopo i risultati positivi della sperimentazione avvenuta nel 2017 e ripetuta nel 2018 con le corse estive fino a Sapri. Ora sono pronti a far sentire la propria voce con più insistenza alcuni rappresentanti del territorio che domani andranno a Roma ad incontrare i vertici di RFI proprio per avanzare la proposta. A fare parte della delegazione il sindaco di Morigerati Cono Delia, quello di Centola Carmelo Stanziola che da quest'anno ha appurato i benefici del collegamento e il consigliere comunale di Sapri Giuseppe Delmedico tra i principali promotori dell'iniziativa sin dal suo nascere. L'intenzione è quella di chiedere un collegamento del Frecciarossa che da ottobre a maggio fermi ad Agropoli, Vallo della Lucani e Sapri e che d'estate aggiunga in più anche la fermata di Centola Palinuro Marina di Camerota. Dalla propria parte la delegazione ha i numeri che verranno snocciolati dinanzi ai già informati vertici di RFI. Attorno al Frecciarossa del resto l'interesse e l'impegno politico va crescendo. Proprio nei giorni scorsi il sindaco di Agropoli aveva commentato i numeri ci danno ragione, dobbiamo insistere affinché il servizio rapido di collegamento su ferro possa essere incrementato includendo un maggior numero di giorni rispetto al solo weekend. Per il sindaco Coppola bisognerebbe includere anche il giovedì nei mesi di giugno, luglio e settembre mentre durante il mese di agosto il servizio dovrebbe essere attivo tutti i giorni. Ora però alcuni suoi colleghi stanno passando ai fatti con l'incontro con i vertici di RFI e una proposta ben più ampia. Di certo però tutti sono d'accordo con il messaggio del sindaco di Agropoli dobbiamo fare in modo che venire in Cilento sia quanto più possibile alla portata di tutti.